Questo è il progetto di usare sotto il video, quindi, esclusivamente i programmi open source. E questo è un tipo di scelta. Chiaramente, cosa succede? Questa macchina è messa senza sistema operativo, che poi c'è stato su Linux, e ovvero male che HP non ci sono grossi problemi di stare su Linux. Però non è detto che tutte le pratiche sia così, perché non sono disegnate per mettere su Linux. Sono disegnate nel giro da Linux. E quindi, magari, non vediamo. Allora abbiamo pensato, facciamo una macchina disegnata da Linux. Cioè, scegliamo i componenti che hanno il supporto libero da Linux. Questa è stata la mia pensata, no? Poi, la seconda pensata è stata, sì, però facciamo una macchina che sia open source A. Cioè, così come vogliamo essere operativo aperto, vogliamo anche un'auto aperta. Guarda qui, come abbiamo pensato? No? Chiaramente... E poi abbiamo scelto un'altra cosa. Usiamo un'architettura alternativa. Cioè, nel senso che... Invece di usare questo modo sia l'architettura, quindi internet, invece di usare un'architettura, abbiamo scelto di usare un'architettura diversa. Qua si potrebbe usare arma, per esempio, per i cellulari, NIMS, e abbiamo scelto un po' un po' perché ci sembrava adatta, come architettura, diciamo, l'applicazione, diciamo, di portate. Perché sono, da parte, diciamo, non possono avere processori che consumano una marea di corrente, perché è importante, però neanche, diciamo, non hanno necessità di essere così passi, moniosi, di corrente, come, diciamo, l'arma, e quindi la vendita in mezzo. Quindi, allora, proviamo con quest'altra architettura che fa moltissimo, no? Questa è un'altra scelta, e poi è un'altra scelta ancora evitare il fatto che, chiaramente, a fare un portatile, anzi, si può trapportare a questo che non è la nostra normalizzazione. Nel senso che, appunto, non è... Cioè, se fai una scheda male, la fai grossa così, poi la metti in qualsiasi che, che sia dentro qua, come qui sia... No, cioè, i pezzi, come ne metti, è la nostra scelta. Per cui, diciamo, la complessità è un po' maggiore, in questo caso, perché è il problema di, comunque, avere una roba che non viene fatta così, no? Allora, diciamo che, nel suo insieme con il progresso, cioè, chiaramente, dovrebbero essere i componenti, devi cercare di cercare i componenti, appunto, che siano più adatte. Adesso dovrebbero essere i componenti su cui il produttore ti fornisce tutta la documentazione e senza firmare un accordo esclusivo, dove non puoi, diciamo, fa scolimedia di un accordo per cui non puoi condividere le informazioni che stanno facendo. per cui non ci stanno facendo. Ok. E poi, allora, in questo caso, c'è una serie di sfide, insomma, da mettere il figlio, no? E quindi, diciamo, effettivamente... E poi, diciamo, lo spirito è come quello del gruppo di acquisto. Non so se sei presente. Sì, sì, sì. Cioè, uno, non so, prete il formaggio del produttore, fa un buco d'acquisto di diverse famiglie, e poi conosce il produttore, insomma, per fare i formaggi, e poi, diciamo, ti metti d'accordo su una certa, diciamo, quantità, per essere un buco di famiglie, e quindi, magari, un prodotto di buona qualità. Il prezzo è veramente più alto. Però, magari, prendendolo in buco, diciamo, riesce ad avere un punto di equilibrio, probabilmente, spedere la seconda dalla discata. Però, allora, per un particolo diverso, dove? Innanzitutto, come in questo caso, cioè, per fare un progetto di questo tipo, se fanno, per esempio, di 200, 250, ma comunque, non è che, non è che vai là, non so, non capisci, sempre per fare niente. Non è che lo fai con un piccolo produttore, no? E quindi, chiaramente, stai già scegliendo una certa logica, non quella di multinazionali, ma quella, diciamo, è una produzione, diciamo, decentrata. Nel nostro caso, è la scelta di un produttore italiano, non di un pubazionale. che si fa, no? E anche la produzione, la farietà, nel senso, fa in modo che la filiera sia corta, no? E quindi, diciamo, come nel caso del formaggio, alcuni, la filiera, per vedere, ciò che è, che è la fatica, che è la truppezza. E quindi, diciamo, si inserisce, diciamo, un'ottica di quel tipo, un'ottica, diciamo, di software vivo, di altro tipo, e poi, invece, anche un'ottica di relazione, nel senso che, cioè, non è che, come dire, se tutti vogliono aiutare, ci siamo, no? Per cui, non è che qualcuno ci ha ordinato di fare questa roba, per cui, facciamo i tipi che possiamo, ci trattiamo bene, perché, a livello di difficoltà, che possiamo avere pratiche, cioè, poi, appunto, non sta bene, ma, e quindi, diciamo, un po', sono tutti questi obiettivi che cerchiamo di portare insieme, no? E qua, per dire un po', le fasi, adesso, noi stiamo, come abbiamo fondato l'associazione l'anno scorso, che è iniziato, come sito, nel 2014, e adesso stiamo, diciamo, lanceremo, per, per maggio, la raccolta dei fondi, per fare che portano schemi, nella prima fase. E adesso non abbiamo mai niente, abbiamo, una serie di ricerche, per vedere il ciclo, che mica il ciclo, a parte il ciclo principale, che era la crisi, però, chiaramente, bisogna entra giù proprio uno schemi elettrico, e, abbiamo provato l'infermiente, qua ci sono alcune persone che lo sa fare, nel gruppo di volontari, che torna il tempo. Nel senso che, abbiamo visto che poi, la persona che poteva fare, era Steven, che aveva, che aveva, come sono, varie persone per i paesi, che lui vive, e in questo buon periodo, ho trovato un po', il tempo, non so, quello che era tutto via, stavano tanto per le persone. Per cui, niente, non mi fanno, se il tempo passava, e questo schemi non riusciva a fare. E allora mi ha detto, è nulla, dato che tanto, cioè, è rivolto a chi è interessato, come uno straniero, che ha fatto lo scritto. Chi vuole, accogliamo il grano, e lo scritto paghiamo. Nel senso, molto semplicemente. E infatti, ci siamo rivoluti a questo piccolo produttore, in italiano, nel parco di vento, se c'è un produttore, c'è un progettista, e quindi, ci siamo accordati, per vedere le fasi, a prima fare, lo scritto, no? accoglieremo, accoglieremo circa 12 mila euro, per esempio, la cifra, che ci siamo accordati, dopo così, con l'umano, scrivete, poi ci siamo andati con una pagina portafogli, su qualcosa di concreto, con una migliore, un po' più. Adesso, è un progetto, abbiamo ordinato definire, sul simbocento, però... non c'è un progetto, non c'è un progetto, non c'è un progetto, ma voi pensate di procedere, com'altro, sull'intelligione, con un perfandi, prima? Prima quello, sostanzialmente, sarà sull'altro sito, qualche cosa, mettiamo qua, il ruolo, il webpress, quei palmi, ok, e dopo, se, come dire, cioè, vediamo, ci seguiamo una persona, con una piattaforma, con una persona, assenzi, perché noi, ci rivolgiamo, con una piattaforma. Ma l'idea è di venderlo, tramite piattaforma, o no? No, no, noi siamo un progetto, noi siamo un progetto, noi siamo, diciamo, per condividere questa ricerca, che vuol dire, progettazione, PCV, il prototipo, che, fisicamente, possa spiegare, le molecole, le molecole, le testimonianze, che funzionano, però quello è il nostro lavoro, diciamo, il lavoro di acquisti, ci troviamo gente interessata, a sviluppare questa cosa, a produrre i segni. No, per cui, chiaramente, ora in cui, diciamo, ci sono 450 persone interessate, potenzialmente, alla cosa, non sono mai 450, ma anche finanziate, sicuramente, è possibile, però, ho fatto un sondaggio, un anno fa, ci erano 150 persone, che erano disponibili, hanno contributo, per l'organizzazione, e altri, ad esempio, a compasso. Noi, non vedremo niente, noi, per fare il progetto, condividerlo, e vedremo, chiunque potrà, poi, in futuro. Ovviamente, ci siamo presi, che vuole coinvolgere, un produttore, che possa farlo, e quello farà, quando ci sarà tutto pronto, un prototipo, che funziona tutto, chi vuole, può fare il progetto, a fare il progetto, il progetto, quando arrivare, un cento persone, che fanno il progetto, va, e arrivare, il nostro scopo, il nostro scopo, è, oppure, questo, avviene, mi viene un momento, l'idea, di, che gli ha pregato, l'idea, ah, per la storia, del vino, e del vino, e tutti, come la ricetta, no, ma non ci interessa, perché gli ha pregato meno, cioè, non interessa, che si dia a conto, si, ci interessa un mondo, o l'idea, di chi lo serve, qua, 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 e per esempio, o lo produce, cioè, se in Asia, si fanno sul sito, si scaricano tutto, allora, si fanno tutto, da loro, e se c'è, benissimo, ma, tanto meglio, è vero, che sta divulgando, un po', nessun sa, cioè, un po' privatizzato, ma, rimane pubblico, qualsiasi, quindi, come fa, non potremmo privatizzarlo? Eh, un po', perché, a momento in cui, come dire, il progetto, cioè, di dire che... No, 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 che è successo, non c'è nessuno che ha, no, 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 comunque, non è come il minimo, cioè, per la visione di fare profitto, non è tutta questa, ma, che cazzo mi frega, cioè, ma costa di più, no, ovviamente, un problema di 250, costa di più che, non costa certi decidi, non farei nessuna sinamata, cioè, una decidi, non farei nessuna sinamata, no, e questo è, ovviamente, questo è probabilmente comunetto, no, più che minimo, non sta subito, tu dici, salve, perché buttare via gli erboli, una roba così, no, per cui, non è una cosa che ha un mercato per loro, è una cosa che è, su misura, su una certa, l'intima, no, in questo caso, se un giorno prenderà la visione di tutti, saranno per dar valore, invece che all'estetica, all'etica, allora, prenderà tantissima gente nuova, però, sinceramente, non c'è un problema, non c'è un problema, cioè, vorrei che, ma, alla fine, c'è, questo discorso qua, dopo, ma andare anche verso, del, c'è nell'altro che, i pezzi di entrambi, o, rimane solo le robe, eh, del software, o se è quello, c'è anche l'altro. Dall'altro, la cosa è questa, chiaramente, come dicevo, questo qui, eh, il progetto, è un progetto penale, no? Quindi, diciamo, che noi, lo che cerchiamo di fare, è riuscire a fare tutto ciò, le nostre possibilità, per avere dei componenti, su cui possiamo, di chiaramente condividere tutta la progettazione, no? Perché il problema è che, ogni chip, può essere che il prodotto dica, no, però queste informazioni tu non puoi pubblicarle. perché c'è anche un'idea adesso, c'è anche in Francia, che sta cominciando ad andare, ma te, e, è stato fatto una legge, mi sa che, tutti i chip, quando prodotti, prodotti, prodotti nuovi, devono essere, cioè, ricambiare anche dei pezzi di entrambi. Certo. C'è, andate su tutto. C'è, dovrò capire il discorso dell'opera? Sì, sì. Anche se con più di adesso, non posso andare a cambiare dei pezzi. Però, cioè, vorrei capire, qui si è andato in altre scelte. Allora, adesso, infatti, ti aspetto, probabilmente, dopo, nel, ehm, se non mi ricordo, qui c'è un punto, dove parla, di, sulle scelte, secondo me. E' più bello che, cioè, si parla, cosa è questa. Allora, bene, scelta il frutto, per semplicità di progettazione, individua la scheda video da un resto della scheda madre. Ah, grazie. Ecco, è una... Questo semplifica la progettazione, perché? Perché non devi, la scheda madre mette tutto, il cd8 separato. Allora c'è un'interfaccia, che si chiama MXM, è un'interfaccia che permette, come esattamente il PC di caso, di separare mette la scheda video, e la scheda video c'è, se hai formato come sia il desktop, che vengono come sia, è MXM. Cioè, a invidire fatti due formati. La MXM, è anche di solito, ci stanno inutati, che possa cosiddermi. No? Quindi, è vero, c'è un tipo di cose che ci semplifica, la progettazione ci toglie la scheda video dalla nostra scheda madre. Poi, compriamo la scheda video, stanno in MXM, che è già fatta, pur se vuoi, se vuoi cambiare. Quindi, in quale già veniamo in. Poi, ovviamente, gli announce, ci sono gli slot, il disco anche, diciamo che, in generale, il disco, la scheda video, cd o anche, non lo dico perché, non lo dico, cambierà. Diciamo che, queste progettazione sono tutte cose aggiornabili, no? Quindi, se vuoi cambiare la RAM, se vuoi cambiare la RAM, se vuoi cambiare il disco, 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 se vuoi cambiare il disco. Cosa? Cogli SSD hanno cambiare il proprio spazio. Sì, allora, poi c'è tutta una discussione sull'M2, gli SSD, c'è una serie di soluzioni tecniche, però, diciamo, eh, sì, diciamo, guarda, il tema di MSM è che, mediamente, se i MSM sono più potenti, e consumano più corrente, è un uso di un'identitazione. Ok, e questo, fa sì che non puoi usare questo case, per esempio, per esempio, così stabile, e così basso, e comunque così. Allora, allora, il problema dello chassis, quello che abbiamo visto prima, ecco, eh, non esiste uno standard, eh, alcuni dicono, sciassie, al di sé, come credo, eh, però, chiaramente, eh, noi lo possiamo produrre bene, no? Abbastanza complicato il produrre un sciassie, perché, a parte la progettazione l'incartica, no? Ovviamente, non sono giusto. Poi c'è il problema dello stand, no? che ha il suo costo iniziale, che è grosso, eh, e quindi, diciamo, per noi, in questo momento, immaginassimo, il nostro chassis, cioè, il nostro, il senso, che ce lo facciamo, quello che vogliamo, quello che condiveremo, cioè, una ditta, e chi vuole, se lo fai con la ditta, lo sono costante, cioè, non è quello che condiveremo. Il problema, comunque, cioè, è inservato il progetto, e quindi, abbiamo detto, bene, usiamo un chassis, già esistente, però, il problema è che, non sapere, questo chassis, e, che poi, ci lo diamo, nel senso, non che, la possibilità, che poi, la schede, l'abbia già fatta, e, cioè, se cambia lo chassis, cambia anche i spazi dentro, quindi, questo è l'altra regola. E poi, in più, uno chassis, che, già, per un mix, un piccolo spazio, già, la scheda è più separata, possibilmente, uno chassis colo, che puoi accedere dentro, senza, e, è stato facile, e, in effetti, purtroppo, non c'è interesse, lo abbiamo contentato, credo, che, e non vogliono darci, non ce lo vogliono dare, con gli sperpargni, non compriamo tutti, gli sperpargni, che li facciamo un po' più, ci ci danno tutti i pezzi, senza schede male, e, non ce lo do, ma non vuole. Prima, avevamo provato, a vedere se ce lo davo, senza schede male, non ce lo darò, quindi, sono finito, non mi darò, ma, con tutto quello che comporta. non vuole, e quindi, quindi, per cui, in questa fase, o, riusciamo a provare, con alcune risposte, da tutti i pezzi, del piano, sapendo che ci sono, produttori temi, e di farci, e di montare, e intanto, comunque, il processo di assemblarci, sarebbe stato lo stesso. Anche se noi, prendiamo un computer, quindi, in un caso, e prendi un po' di città, le schede male, le friga tutte, e rimettere, proprio, in una trattativa. Proverò che, però, la roba essere, di sé, se non può, dovesse, di studiare, e poi, che è un problema. Un problema, fino a tempo fa, la potevo farsi bravo, però, se riuscissi, almeno, di capire, a fare un trucco di, e invece, guarda che ho capito, ho chiesto un po', una persona che non la vende, che erano i miei amici, diciamo, al tempo, che sono afezionati, anche, all'asporto. E quindi, adesso, siamo in questo video, di vedere se riusciamo, a prendere qualche rivenditore, a prenderci tutti i pezzi, da rifare, di mettere insieme in contatto, con l'esterno. C'erano un po' richiesto. Sì, sì, come dire, non so, a capire, tutti i pezzi, dei cambi, noi dobbiamo, cerchiamo a capire, abbastanza grandi richieste, per metterci tutto, e, prendiamo due centri, di tutte le parti, e lo facciamo, no? Questa è una cosa, un po' più semplice, per portare. Sì, per il progettato, costa un po' di cieli, costa un po' di cieli, costa un po', eccetera, eccetera, però, alla fine, se non c'è la situazione, di questa cosa, non c'è più grande. Sì. Quello è il tanto, che comunque, lo sappiamo a continuare. il primo anno, il primo è 10, lo hai di tutto esattamente, quindi, quasi un anno, non è semplice, è fatto già un gatto, nel senso che, non farà un gatto, però, questo progetto, più o meno, sono 60 mila euro, c'è un po' più completo, dalla schede, di certificazione, di test, di prototipi, sono circa 60 mila euro. e quindi, sono due progetti, di professionalità, per noi, secondo le norme, quindi, per cui, in questo momento, la speranza di riuscire, di utilizzare qualcosa, di già fatto, la scelta, questa fase è un po' prematura, che è quello schede, che è quasi dipendente, da quello che in questo momento, in questo momento, per cui, fino a schede, diciamo, in secondo la mano, dopo, quando si passa, i seguiti, e poi, arrivare a 15 miliardi, se nel frattempo, c'è una prima di strada, e, 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 sempre una mano, da un punto di relazione, conoscenza, e, 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 indeterminato, questo, però, qualche peggio, se, il senore SS, del territorio, da un terreno, se ne fa la tempo, abbiamo questa vicina, tanta gente, al progetto, non ci sono scheguiti, un taglio per cui, se non prepara la tua, per l'aleggiare, altre cose, per esempio, chassi, un brezzo, comunque, le stavere simulare, sono diversi. Diversi. Ciao, grazie. Grazie. Poi dopo, quello di, non ha un po' benissimo, cioè, non solo, il suo stavore in plastica, ma il tuo, ha presso la fusione. Sì, sono tante cose, ad esempio, questa qui, avrei conoscato, un nemico, che ha un'azienda, che fa presso la fusione, e poi fa, è un altro materiale, che ha nominito, lo poteranno con lui. No, uno è che, su, per gravità, nonostante, il finito, lo ha fatto per gravità, con delle, presse, e poi, ancora, finita l'ora, il produttorio, quindi, il costo è più sulla parte navale, e con i materiali, poco, le presse sono. Sì, ma questo, per la parte, diciamo, della scocca. La scocca. ha detto, guarda, per, diciamo, per arrivare lo scanto, anzi, dire, ha un costo di, di basso, lo scanto, sono 50.000 euro, che era sui 4-5.000, iniziali, e poi hai, un po' di lavorazione, di volta, però, è una città. Quindi, che mi dici, che le grandi distribuzioni, le grandi, gli altri, gli fanno sempre in plastica, per un discorso economico, non per un discorso di problematiche, che l'anomino, possa creare, anche l'anomino, se la fa tanto più. Sicuramente, ma, problematiche a livello di, 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 il tweak, di, di a computer, Giusto. Ma perché dovete mettere in mano una zina o perché non c'è qualcuno di un progetto? No, allora... Perché il risposto dell'alluminio o non l'alluminio lo puoi fare anche... cioè se uno mette a fare la parte fisica con la stapola del D, c'è la parte libri già. Sì, sì, non so. C'è un problema risolto, nel senso... Allora... C'è da vedere la parte... cioè il layout, come va messo, le schede... C'è... ma adesso non c'è nessuno di dati, però... No, allora... Io rispetto a queste fasi esplorative delle varie costritte, non è mai passata un po' di tempo, quando lo faccio sono stati almeno due anni. Perché la prima cosa che ho verificato per lanciare il progetto era l'aspetto dello successivo. Quindi stiamo parlando delle domande che mi hanno fatto. Per cui può essere che nel frattempo il punto è più grande, quindi... Però, in la zappa 3D il problema era, a parte, la lentezza, dopo due anni del 250, ma poi era anche l'obustezza del materiale, no? Le dimensioni... Cioè... Allora... No, allora mi sono sbagliato a rispondere. Perché, cioè, io dicevo che se magari avessi uno che lo progettassi insieme alla comunità, che lo mettessi a fare, cioè lasciassi il progetto fare... Sì, tu potresti fare un'altra... Perché c'è nel stampo che fanno con le... Cioè, con le dutezze diverse. Allora, ognuno lo potrei magari fare. Cioè io faccio una sopravventa italiana, proprio con un... o uno dei barchedetti per lo risparmio a fare con il stampo, o dove c'è ogni stampante che mi fa? Allora... Allora, effettivamente, se ci fosse qualcuno, o un gruppo di persone, o non so che cosa, che progettasse veramente la parte degli impianti, cioè tutta la parte dello scienze, sarebbe quello strategia un passo enorme, ma non ce l'ho aperto, nessuno di disegnare. No. Allora ti scrivi il mio nome. Vedi? Allora. Ma tu ti lascio anche un bigliettino, mi scrivo il tuo nome. Te lo scrivo tutto. Mi lascio il mio, se mi trovo il consiglio, è bellissimo. Eh. E dopo mi dai una mano che... A me basta che... Mi ascolta abbastanza molto, mi piace questo. No, no, no. Mi piace, perché... Cioè, nel senso, se no dobbiamo fare una cosa di volontà. Sì, sì. E dopo la... Cioè, il discorso che dicevi lei prima, cioè... finisce... Cioè, è tutto qua. Cioè, più... Cioè, metti in comune comunità, c'è... 50 persone, un'azienda, pensano più meno che... 5.000. Ah, c'è... Intelligenza... Comune? Sì. E lì va più veloce. Ma noi abbiamo riparciato un... Ma secondo me, tutte queste cose, ovviamente, ogni tanto, facciamo delle esplorazioni poi magari ci sia qualche... più gente che riuscivano a arrivare a... Ah, no. Perché... Abbiamo fatto che cercherà a fare la teleglia, a fare le modalizzazioni del B comunque condivise. non abbiamo un punto strumentale perché questa parte della cosa è un uomo... è un uomo... è un uomo... che tra l'altro è... Mario... Mario... che però... cioè... lui ha fatto un design industriale... adesso lo lavorano... con i nostri terremoti... Questi tutti parecchiali di montare un genio... di montare un genio... con un lavoro diverso... però diciamo che... cioè... non si può fare qualcosa di così... assurdo... qui siamo... tra un po' di gente... facciamo una cosa condivisa... ci possiamo anche trovare... che ho avuto un pericino... ma... sono qui... e poi mio amico... che ha questa azienda... lui fa... io non posso farlo... se non c'era... una progettata... cioè... io potrei farlo... ma... hai 15-50 persone... e io... non ho fatto... e... il problema è... che... è importante... chi fa un progetto... perché... ce l'ha fatto... non... a progetto... ma... a tempo... e... cioè... deve essere... che ti dici... per darti questo... to... 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 così... avevano fatto... questa ricerca... per capire... di quanto si parla... per capire... per cui... ho concluso... un po' di idea... abbiamo voluto... diciamo... che serve... l'energia umana... e... sì... no... c'è... io... ho l'impressione... che c'è tanto... su... la parte... e anche... il software... però... su questa cosa qua... c'è... per me... però... non c'è nessuno... no... 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 c'è nessuno... però... c'è anche... un po' molto interessante... magari... è così... sì... noi abbiamo... tutti quelli che si iscrivono... alla... newsletter... che sono 450... tutti... qui c'è un questionario... no? quindi chiediamo... cosa dovrebbe fare... per cui... diciamo... ecco... così... insomma... questo è un po'... tutta la barata... ci ho messo un po'... guardate... se vedete... ve lo faccio vedere... c'è il sito... Instagram... delle cose... tutto... come partecipare... non ci sono tante informazioni... vedete... qua c'è... io metto sempre... chi vuole dare una mano... per questo... le soluzioni... cioè... c'è sempre tradizione... tutto... in Instagram... ehm... poi... c'è... un altro software... e... qua ci sono... un progettato... un progettato... un progettato... un progettato... ma... adesso... direi basta... la... 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 si... ma sono... ehm... ehm... diciamo... questo... questo bioproduttore... su cui ci appoggiamo... anche un system... un bioproduttore... ehm... su cui ci appoggiamo... che è la vegetazione... ehm... ehm... scusa... mi ha messo... alla... alla comunicazione... giusto per la prima slide... che sai... si... con Egitto... no... che faccia la pochina... si... si... no... 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 ma... ragazzi... tu volevo chiedere... cioè... la tina è come un prodotto finito... ok... importante... quali prestazioni... cioè... tra cinque anni... tra cinque anni... tra cinque anni... quattro giorni... ecco... ma... certo... quasi questa... voi... più o meno le specifiche... le specifiche... più o meno... ce ne abbiamo... dalla... dall'inizio... dall'inizio... ehm... allora... processore... se qua... ok... è... e... abbiamo... se... ho capito che sono scontate lì... il processore... è... un... T2080... processore... processore... ehm... a PC... processore 4QA... 2A3... quindi... su 8QA virtuali... un processore... che... è... per me... se vanno a... raccordano ad un... non so... peggio... è un M7... M7... non credo... che... il M7... come core... che è meno uguale... però... sicuramente... ehm... consumando più... e... a frequenza... ah... però... il M7... non penso di supportare... le superiori... 8QA... 8QA... per cui... diciamo... come... grande parallelismo... è... un po' più grande... diciamo... ehm... come velocità di frequenza... no... quindi... sicuramente... non so... che... ok... sicuramente... no... però... unità... di accelerazione... ehm... diciamo... di elaborazione... di segnali... che è abbastanza... 16GB al mondo... però... è un taglio di lavorare su Linux... è un taglio di lavorare su Linux... in più... avendo una... una scheda di SchemeXM... sicuramente... sarà... sul grafico... cioè... noi magari... metteremo la scheda più potente... però... sarà... direttamente supera... con la stessa scheda... ma no... poi... sento... una persona... di... no... ma... ma... no... certo... ti hanno supportato la scheda video... eh... però questo... questo qua si... ma questo... ma... questo... questo... ma... la scheda video... la scheda... su tutto... no... si si no... questo... nasce con la scheda video... ehm... allora... almeno che su questo... però... perchè... quattro... è difficile e facile di stare... perché noi ci facciamo la chassina resistente... no... è risolto il patto... no... è risolto il patto... quindi... no... a me si avrebbe avvicinato il patto... ma... come stanno detto... lascia... lascia... cioè... ma lei mi diceva anche... una costa di CPU... che... con questa CPU... che era il patto... ci voleva... su più... superiore... e proprio... costa... la CPU... questa CPU... costa... 100... che è... che è... che è... la fasciata... di... 12V... o 2V... un server... ma quella... questa sola CPU... con CPU... è... ma... mi si è detto... no... su questa qui... con i due slot... vuol dire... che... poi... i suoi parte... sono curiosi... la cosa... mi ha curiosito molto... è... il fatto che... questa CPU... sono curiosi... ma... è l'unica CPU... che ha lasciato la terra... ma... si... in questo senso... non ce l'ho un po' perché... si... e... è chiero... questa cosa... effettivamente... mi interessa... e... ha lasciato la terra... si... 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 diciamo che... ci sono un po'... un po'... ah... ah... sono tutte... militari... si... si... e sono... si... quindi... sono... siccome... è riconosciuto... del Brasile... si... ah... 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 c'è qualcuno del Brasile... 100% eh? si... si... ma... il Brasile... portoghese... portoghese... spagnolo... olandese... indiesi... fresco... francesi... si... intanto dico... tra l'altro... bisogna di... no... si chiama... Salvo... si chiama... scusate... mi confondo... il Brasile... il Brasile... il Brasile... il Brasile... non lo so... no... questo ragazzo... non mi fa la produzione... ma... è... il Brasile... il Brasile... quindi... ci manca ancora... russo... i giapponesi... però... c'è... 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 indiani... no... ma... ferratissimi... eh... no... no... scusa... non ti vorrò spettare... no... c'è una produzione russa... c'è una amica... che è russa... beh si... mi fa piacere il progetto... eh... cioè... mi fa piacere... chiede da lui... ah... si... per far piacere... a voi... eh... mica russa... bene... questa... si... si... giustantino... così... poi... il pubblico... indipendentemente... dai partecipanti... eh... comunque... del recito... che siano... ah beh... complimenti... per il... il progetto... e... 3... 2... poi... se vuoi... si... 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 eh... eh... beh... per il programma... come dice anche Luigi... ma poi... adesso per esempio... abbiamo bisogno degli smanettori... sulla parte sotto... ma... quanti del settore... cioè... cioè... ci sarà un... non so... un numero della vostra associazione... che è... programmatori... che è... allora... l'associazione... siamo in sé... che l'abbiamo registrato in Italia... perché... ovviamente... essendo noi... ma... che è... ma... io sì... eh... Mario... non è il settore... no? il suo lavoro... Riccardo... beh... sarebbe in Noridia... perché... si era... un tempo... più... un formato... quindi... lavoriamo con il settore... siamo io... Roberto... Roberto... no... Roberto... no... questo è il tuo momento... fondatore... che è l'associazione... poi... diciamo... io... un essere più corti... in realtà... ma... infatti... a me so che... i corsi di... imprende... o... noi... realmente no... in questo momento... siamo focalizzati... su questo progetto... ma... chiaramente l'associazione... lo sono più grandi... questo è il nostro primo... non c'è... non c'è... perché... non c'è... perché... quello dovevamo farlo... io... un'altra persona... che è... introdinione... di The Office... con 10 anni... lui... proprio... era Boston... e era... li hanno... cambiato... non c'erano qui... l'ho messo... perché... la parte prima... era... a prendere una presentazione... tutti... era una cosa... che io... non posso... a me mi interessa... ma poi... questo... cioè... fare... un workshop... per il caso... non c'è... non c'è... non c'è... non c'è... ma... vediamo... l'approccio... cioè... quello che dico... che trovo ad essere... veramente fuori scala... del nostro progetto... è... l'approccio... no profit... cioè... nel senso... partire su un progetto... così... complesso... così... difficile... l'importante... eh... senza avere... e anche... quasi dire... fai fatica... a capire... che cosa... ti spinge... cioè... nel senso... ma... quello che spinge... non è un esperimento sociale... insomma... no... ma... è una roba sociale... hai capito? cioè... è impressionante... ma... non è... cioè... per un esperimento sociale... eh... per quello che... insisto... a... promuoverlo... poi... insomma... i risultati... per il momento... non sono... ma per te... è una cosa... spesso... adesso... 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 vedete... Arduino... Raspberry... cioè... possono aprire... un mondo... anche... didattico... ai bambini... ci sono paesi... come... Inghilterra... per Raspberry... è diventato... uno strumento di studio... arriva alla scuola... trovarlo bene... la follevano... la televisione... assolutamente... c'è una tastiera... che... imparano software... con... come si chiama... con... con... scratch... con... si... io... lo conoscerò assolutamente... qua... mi spero... i bambini... vanno con le varigioni... a... poi... collegano il mondo... cioè... hai il web a disposizione... i libri... ti vuoi portare... a scuola... se c'hai la mia... c'è... 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 quindi... apre tutto il mondo... perché si era collegato... a una roba... che sono tutti i progetti... nati... almeno dopo... adesso... è stato davvero... se le persone... prima Alberto... ha fatto la domanda... sì... ma non ti vanno qui... perché ti stai sbattendo... così... perché... e diciamo... perché... è... 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 è...